Ecco c'è l'ingresso in campo delle due squadre, Virtus Castelfrentano qua a Sant'Anna di Chieti contro la giovanile Chieti per la terza gara di ritorno del campionato provinciale categoria giovanissimi Girone Chieti. Adesso si stanno schierando al centrocampo per il saluto al pubblico, la scelta del campo o del pallone, la loro scelta, il saluto. Il capitano è il nostro Lorenzo Cuniberti con il numero 6, stanno scegliendo Chris per prepari, adesso c'è il saluto, mi fa controllare l'altra rete, c'è il saluto, ecco sta cominciando l'incontro, in bocca al lupo, adesso si vede imbannato.